Ha prevalso il buonsenso degli italiani naturalmente, il buonsenso che ha dettato un no forte avverso un Parlamento che si era arrogato arbitrariamente il diritto di rifare la Costituzione perché non era legittimato a farlo estendo stato eletto sulla base di una legge incostituzionale, di un Parlamento che invece di avvicinare i cittadini alle istituzioni li allontanava perché cassava il loro diritto di voto quantomeno per il Senato e per buona parte della Camera attraverso la legge elettorale e ha prevalso soprattutto il rifiuto di una prepotenza della casta. I due dati importanti che escono fuori da questo voto sono il fatto che la maggioranza dei no proviene dai 18-35 anni, dalla fascia tra i 18 e i 35 anni e soprattutto dal sud, in particolare dalla Calabria. Sono due dati che devono far riflettere e far pensare che chi nel sud guarda al futuro, guarda alla speranza, guarda alla forza della democrazia, dei diritti, dei principi, cioè i giovani e soprattutto i giovani meridionali non vogliono questa casta prepotente e arrogante. Qualcuno ne dovrebbe trarre le giuste conseguenze, oltre a Renzi. Salvatore Bruno per la Cinews 24